MQRK390 è la nuova scheda Falless formato Q7 di Harbour con processore Rockchip Quadcore basato sulla tecnologia Harbour Questa scheda offre diverse possibilità di connessione due interfacce grafiche, LVDS a due canali a 24V e HDMI due connettori interfaccia MIT per telecamera e una LAN Gigabyte Ethernet La scheda viene alimentata a 5V ed è estremamente robusta progettata per lavorare a temperature operative comprese tra i meno 20 e i 70 gradi I sistemi operativi attualmente supportati sono Linux Ubuntu, Buildroot e Android 8.1